Per la rubrica Chi adotta un amico adotta un tesoro a cura della redazione di RTC Quartarete in collaborazione con il canile di Cava dei Tirreni, oggi vi parliamo di Nichi, un cagnolone di 5 anni che a causa di una rinuncia di proprietà è finito in canile. Nichi, cresciuto a contatto con i bambini, è docile e merita di trovare una nuova famiglia in cui vivere una vita serena. Il canile di Cava dei Tirreni inoltre rivolge un appello a chi dispone di pedane piene di legno inutilizzate affinché le doni alla struttura. Le pedane sono infatti utili a sollevare da terra i cani ospiti dei box in quanto le mattonelle della pavimentazione sono molto fredde. Gli interessati all'adozione e tutti coloro che avessero la possibilità di donare pedane in legno possono rivolgersi al numero 347 72 94 178.